Nel 2015 la sezione toscana della Corte dei Conti ha tenuto 42 udienze mettendo 251 sentenze per un ammontare delle condanne pari a 36,164 milioni di euro per quanto riguarda i giudizi in materia di responsabilità e a 225 mila euro per quanto riguarda i giudizi di conto. E' quanto emerge dalla relazione di Ignazio del Castillo, presidente della sezione toscana della Corte dei Conti, letta in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario 2016, oggi a Firenze. Complessivamente ho sempre sostenuto e diciamo che tutti lo percepiscono che lo Stato e gli enti pubblici non riscuotono tutti i propri crediti, soprattutto gli enti locali che erano abituati a vivere di trasferimenti statali. Hanno sempre curato poco le proprie entrate, i casi di affittopoli, ma non è solo Roma, è sempre stato così ed è dovunque così. E tanti e tanti, come dicevo, i concessionari della riscossione delle entrate degli enti locali che spariscono con la cassa, non pagano, non spariscono, ma non pagano. Sono fenomeni abbastanza comuni. Probabilmente c'è stata in passato una grande incuria dovuta, proprio come dicevo, al fatto che gli enti locali erano abituati a vivere di trasferimenti statali. D'altra parte è pure comprensibile che far pagare le tasse ai cittadini che poi devono eleggere gli amministratori locali non è un fatto molto piacevole per gli amministratori.